Volontariamente volontari perché nessuno si deve sentire obbligato a fare quello che facciamo quotidianamente a favore delle comunità. Nessuno deve sentirsi comandato in quello che facciamo, anche se spesso nei ruoli apicali sentiamo questa grande e grossa responsabilità che le nostre comunità a volte ci impongono. Le prossime sfide, quelle che aspettano la nostra sezione, sono sfide per lo più positive come piace a noi alpini e sicuramente impiegarci a favore dei giovani con il secondo campo nazionale dell'Associazione Nazionale Alpini riservato ai giovani tra i 16 e i 25 anni. E poi ci sarà un bellissimo momento alla Dunata di Vicenza dove realizzeremo Casa Trento, questo primo campo di attendamento per 3.500 persone, 3.500 trentini che si ritroveranno tutti quanti assieme dove? In Viale Trento a Vicenza, vi aspettiamo.